Siamo indignati. Luisa Tassitani, sorella di Iole, sequestrata e uccisa nel 2007 dal falegname bassanese Michele Fusaro, commenta con queste parole il primo permesso premio concesso e già usufruito dall'autore di quell'atroce delitto. Me lo aspettavo a breve un primo permesso premio, prosegue Luisa, ma non credo nella rieducazione e nei premi per chi ha commesso un omicidio volontario di questa portata. Condannato a 30 anni di reclusione, nessuna collaborazione con la giustizia, nessun nome dei complici di cui era palese l'esistenza. Fusaro ha potuto lasciare per la prima volta la cella e trascorrere qualche ora a casa con i familiari. Un provvedimento una tantum, vista la buona condotta del detenuto che l'avvocato Roberto Quintavalle, legale all'epoca dei fatti della famiglia del notaio Luigi Tassitani, commenta così. Sembra una battuta, esce dal carcere così va bene, no no non esiste, non esiste, non esiste. Una notizia ridicola, continua l'avvocato, che non fa aggiunge onore alla giustizia. Io avrei capito se il suo legale, non lui, avesse chiesto, che ne so, i domiciliari o qualcosa d'altro, ma che lui si prenda un permesso premio perché è stato un bravo ragazzo in carcere, mi ripeto, non esiste proprio. Fusaro, oggi 56enne, terminerà di scontare la sua pena nel 2037. Sapere che per lui, anche se per dieci ore, è stato possibile ritornare alla vita di sempre, è l'ennesimo colpo per una famiglia provata da un dolore indicibile e che meno di due mesi fa ha dovuto dire addio anche alla mamma di Iole, la signora Marisa. Una vicenda che scuote l'intera comunità di Castelfranco Veneto. È stato un delitto efferato e mi sembra non vi sia mai stata una sorta di pentimento. È difficile accettare che la giustizia consenta questo tipo di percorso. È difficile accettarlo per i familiari, è difficile accettarlo per la cittadinanza. È un tema sul quale in qualche modo dovrebbe interrogarsi chi legifera e chi fa le leggi rispetto a delitti, mi ripeto, così atroci, così efferati.